E' l'ultima di questa stagione, adesso è arrivata l'estate, oggi è l'ultima puntata, se possiamo chiamarle puntate, è l'ultimo incontro, chiamiamolo così, sulla pagina di Facebook di Capire per Prevenire, non parleremo di argomenti di medicina, ci saluteremo e ci daremo appuntamento alla prossima stagione che inizierà verosimilmente a metà settembre. Eccoci qua, allora grazie ad Angelo e grazie a Domenico, i miei fedeli allievi di chirurgia che sono al di là di queste telecamere, sono dietro quelle telecamere. Angelo è dalla parte della regia, per cui è nella parte computer, mentre Domenico è nella parte telecamere e nella parte social, per cui è quello che in questo momento sta gestendo Instagram e le condivisioni su Facebook. Perché nomino Angelo e Domenico? Perché capire per prevenire questa rubrica del martedì delle 14 non sarebbe possibile farla da solo, perché comunque anche se la tecnologia ci viene in mano, basterebbe un piccolo pulsante per andare in diretta, in realtà per cercare di fare un prodotto che possa essere un prodotto utile è necessario che arrivi l'informazione nel miglior modo possibile, per cui con l'ausilio anche di cartelli, di diapositive, di immagini, di tutte quelle iconografie, quelle figure che sono importanti per capire un pochino meglio quelle che sono le varie patologie. Chi ci segue, e ormai cominciano ad essere anche tanti, perché noi abbiamo cominciato tre anni fa, ma cominciano ad essere già di un numero considerevole i nostri follower, così si chiamano, e sanno che noi parliamo ogni settimana di un argomento di medicina basandoci, e soprattutto focalizzando la nostra attenzione sulla prevenzione, perché diciamo sempre che la prevenzione è la medicina più efficace, e che cosa facciamo? Noi portiamo sui vostri computer, sui vostri telefonini, ovunque voi siate, tramite questo veicolo Facebook, che è un veicolo meraviglioso, un social assolutamente utilissimo, se viene utilizzato nel modo corretto. Il modo corretto è utilizzarlo per fini utili. Noi di Capire per Prevenire, io insieme ai miei lievi, abbiamo pensato, facendo questo mestiere, facendo i medici, in particolare facciamo i chirurghi dell'azienda Poliglini Converto Primo di Roma, dobbiamo specificare di Roma perché con Facebook si va in tutto il mondo, per cui noi siamo a Roma, noi abbiamo pensato di portare quella che è la nostra cultura, quella che è la nostra conoscenza, in modo semplice nei vostri telefonini. E ci siamo riusciti perché abbiamo comunque ogni settimana un grosso riscontro, un grosso rientro di considerazioni, di consigli e anche di gratificazione da parte di tutti voi. Per cui potrebbe essere su questa ultima puntata, tra virgolette, questo ultimo appuntamento prima dell'estate 2019, sarebbe carino da parte vostra che se su questo post voi magari mandateci dei consigli, scrivete dei consigli su argomenti che volete che noi trattiamo. Qualsiasi argomento esso sia, di ordine medico, noi possiamo invitare chi vogliamo, perché facendo parte noi dell'azienda Poliglini Umberto Primo, e voi tutti sapete essere uno degli ospedali più grandi d'Europa, noi possiamo attingere ad un bacino di colleghi, di professionisti di altissimo livello, per cui possiamo avere il neurologo, il neuropsichiatra, il neurochirurgo, il cardiologo, il cardiochirurgo, il chirurgo generale, il senologo, lo abbiamo avuto tante volte, l'oncologo, il chirurgo toracico, il dermatologo, tutte le specialità possibili e immaginabili. Pensiamo soltanto alle donne, che sono poi quelle che sono più attenti alla salute e alla prevenzione, per cui il ginecologo, abbiamo avuto il professor Benedetti Panici, ma non vogliono nominarli, perché sennò sarei, diciamo, ingiusto nei confronti di quelli che adesso non nomino. Insomma, abbiamo la più alta concentrazione di professionisti di altissimo livello della sanità italiana, per cui il nostro appuntamento sarà per metà settembre, metà settembre ripartiremo, sicuramente ancora più convinti di stare ad intraprendere un percorso di strada assolutamente utile, utile per noi, perché comunque diamo una informazione che ci gratifica e pensatela come volete, però ci gratifica anche il fatto di fare qualcosa di utile e dall'altra parte pensiamo che questo possa essere utile a voi per capire meglio, capire per prevenire, capire meglio quelle che possono essere le patologie importanti e come si riconoscono e soprattutto come bisogna fare per arrivare ad una diagnosi precoce per cui a prevenire un aggravamento e a prevenire un peggioramento della patologia. È chiaro che questi piccoli appuntamenti del martedì alle 14 su Facebook non devono assolutamente consapevole sostituire l'impegno del vostro medico, l'uso del vostro medico che rimane come noi diciamo sempre fino ad essere certe volte anche logorroici, fino a ripeterlo troppe volte, il vostro medico deve comunque rappresentare il punto focale, il centro della vostra salute, per cui qualsiasi problema voi lo dovete andare a risolvere con il vostro medico, con lo specialista che volete assolutamente consultare e dovete prendere da questi appuntamenti con capire per prevenire per cui con me o con i miei ospiti dovete prenderli come un sapere in più, certamente non la soluzione del problema, però è sicuramente una strada buona per cercare di comprendere nel modo più semplice, nel modo più alla portata di tutti, nel comprendere la complessità di tante malattie che anche da un piccolo sintomo, da un piccolo segno possono nascondere anche una patologia ben più importante. Grazie a chi sta qui, grazie anche a Monica Di Loreto che vedo che sta qui e che saluto. Monica è la mia maestra, chiamiamola così. ...di una importantissima giornalista di TV 2000 di cui ho l'onore ogni tanto di partecipare anche alle sue bellissime trasmissioni sul mio medico, una trasmissione che va da anni su TV 2000 alla televisione della Santa Sede alle 10 di mattina dal lunedì al venerdì ad esclusione del mercoledì perché il mercoledì purtroppo, purtroppo per gli appassionati di medicina ma non per quelli che invece ci tengono come molti di noi al Papa è la giornata del Papa, no? Perché il mercoledì è la giornata del Papa. Per cui saluto Monica Di Loreto, grazie di avermi mandato i tuoi seluti, li vedo qui, grazie Angelo che me li hai fatti notare perché è un piacere. E allora non mi resta altro perché oggi non volevamo farla questa diretta, non era contemplata, ci siamo già salutati martedì scorso, però ho detto ai ragazzi, stavamo qui in ospedale, ho detto ragazzi ma perché non apriamo le telecamere perché tanto ormai siamo talmente bravi tecnologicamente che in 5 minuti possiamo aprire le telecamere e diamo un saluto semplice senza parlare di medicina assolutamente, diciamo che abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno che comunque voi ci diate i vostri consigli relativamente a quello che vi piacerebbe sapere in modo più approfondito nella prossima stagione. Non ho parole per ringraziare Angelo, Angelo Vagali che è un allievo chirurgo molto bravo che lavora con me, a Domenico Di Nardo, anche lui è un allievo che è andato un po' fuori ad essere ritornato a Roma, adesso sta un pochino qui, così come a tutti gli altri allievi, mi ricordo anche Paola Carnì che comunque pur nonostando qui in ospedale ci condivide sempre fuori, è ritornato anche il figlio il prodigo, il Matteo Di Carlo che è un altro dei miei allievi, è tornato qui a lavorare con noi, siamo un gruppo comunque di chirurghi qui all'Umberto I, all'azienda Poligno Umberto I che realizzano tra le tante cose, tra le varie lezioni all'università e via dicendo, realizzano anche queste dirette di Facebook. Per cui a questo punto vi saluto, vi saluto, vi darò appuntamento a metà settembre, non sappiamo quando, ma state certi che sul veicolo social, su Facebook vi arriverà la notizia di quando questa rubrica Capire per Prevenire, perché la prevenzione, ricordate, è la medicina più efficace, ripartirà. Arrivederci a tutti, buone vacanze, divertitevi, rilassatevi, state in famiglia, godetevi le dovute necessarie, importantissime vacanze e noi ci rivediamo a metà settembre. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.